Oggi siamo con Roberto Anzola Vice President Solution di Papirus Software con cui parliamo di intelligenza artificiale. In che modo i vostri clienti possono realizzare il pieno potenziale dei loro processi aziendali con l'intelligenza artificiale e l'NLP integrato nella vostra soluzione? Ma sì, all'interno delle vostre aziende avete esperti di customer communication, avete esperti di business process management, di enterprise content management, tutta la parte di archiviazione dei documenti, dei contenuti che sono scambiati con i vostri clienti. Quindi la nostra proposta è quella di dare loro la possibilità di definire i loro value stream, quindi i flussi di valore aziendale e i relativi goal. Utilizzando la piattaforma Papirus User Trend Agent, quindi la tecnologia che è già patentata nel 2008, dà appunto la possibilità di apprendere durante il lavoro di questi utenti, quindi quando descrivono quali sono i loro value stream, qual è durante l'interazione con i colleghi, durante l'interazione con i clienti. Quindi anche apprendere le regole e eventualmente anche estendere i modelli dei dati, quindi le ontologie per gestire appunto queste situazioni. Il sistema non è invasivo, quindi in realtà l'utente non si accorge, lo vede, ma non si accorge appunto che il sistema sta apprendendo sulle sue azioni, sulle sue reazioni. E dopodiché sulla base di questo apprendimento proporrà successivamente allo stesso utente o altri utenti in situazioni simili le cosiddette best next action, quindi le migliori opzioni. Le propone, lo vediamo lì nell'angolo a sinistra e possiamo selezionarlo oppure prendere altre azioni che il sistema nuovamente, se richiesto, andrà a prendere e quindi crea sempre di più questa base di conoscenza per poi essere utilizzata sempre di più all'interno dell'azienda e eventualmente poi a un certo punto anche a automatizzare alcune di queste azioni. Questo anche sulla base appunto del livello di soddisfazione, dei risultati che lo stesso vale anche per le tempistiche, eccetera. In che modo la tecnologia e la consulenza di Papyrus aiutano i clienti a trasformarsi con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico? Sì, a volte durante l'esecuzione di processi è necessario uscire da quello che è l'epipath dei processi che qualcuno ha definito per noi, per gestire delle situazioni ad hoc. In questo caso non vogliamo che gli utenti escano dal sistema, ma dall'altra parte non possiamo chiedergli di andare a modificare il processo che è stato definito a livello informatico. Quindi l'approccio BPM va bene, però molto spesso è un blocco appunto per rispondere all'agilità che il nostro business ci sta richiedendo. In questo caso Papyrus Converse ci viene incontro con un ambiente conversazionale e collaborativo per definire i processi senza la scrittura di codice. e quindi andando verso utenti business senza l'ausilio dell'IT e quindi persone esperte nel loro ambiente come manager, consulenti e analisti possono andare a impostare liberamente ontologie, regole, piuttosto che attività o gli obiettivi. Quindi l'interazione in Converse è gestita con un linguaggio naturale dove l'intelligenza artificiale fornisce dei suggerimenti e controlla continuamente la conformità con le regole e gli obiettivi organizzativi ai quali non possiamo ovviamente uscire. Questo mi dà anche la possibilità di, se è permesso, di uscire dalla sequenza, quindi non gestire il processo in sequenza, ma focalizzarmi sulle attività che posso esplitare in questo momento per poi gestire successivamente quelle che magari stanno aspettando dell'informazione da parte del cliente o da un collega o che altro. L'interfaccia utente di Converse è un ambiente conversazionale, come dicevo, quindi è in grado di comprendere il significato semantico attraverso una natural language processing e dall'altra parte algoritmi di deep learning che guidano appunto l'utente nell'esecuzione del processo per raggiungere gli obiettivi attesi.